Niente ragazze, ora facciamo un altro video dove io faccio video che dico con voi e nel frattempo pieghiamo le mie belle robe, vedete qua cosa tutto c'è da piegare, pieghiamo le mie robe perché è una cosa impossibile da vedere come sono, però vabbè, dettagli, queste sono le mie robe, le pieghiamo in diretta, sempre se riesco a capire come funziona sto cavalletto perché è una cosa impossibile. Opla, ecco qua, no, però così no, ok, allora, ok, sempre che riesco a registrare, no, o qua, vicino a questo, così posso Posso anche vedere se sta registrando, già, così no, così si, già, questo è il mio pigiame, non so se si nota, Bello, bello, il mio pigiama, ragazze, bellissimo, direi. Bazzola. cambia bene Mangi e opla topla la Grazie. Tutto a posto, ovviamente. Qua, vedete l'ultimo che devo mettere a posto perché altrimenti non lo so come fare. Poi devo farmi a cambiare il tetto perché così non mi piace come l'ho fatto, come l'ho sistemato. Non so se mi spiego, però così se la farò. Oddio mio, questo aiuto, sì. Io l'ho fatto. Oddio mio. Ok, aspettate un po'. Sì, ecco. Ok. Perfetto. Ok. 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 a posto a te come qui a guarda la registra si vabbè comunque dovete vedere vabbè lì c'è del casino ancora perchè devo sistemare ma le sistemo in diretta va anche questi già sta registrando si ok non so perchè ha tutto qua vabbè ha messo tutto qua per un momento a nessuno ok basta e ecco qua tutto quello che è sistemato vedete in un attimo si riesco a sistemare tutto adesso questa busta va sistemata di là perchè non so se no come sistemare tutte le belle cose e niente ragazzi questo è tutto quello che doveva essere sistemato e vabbè questo lo mettiamo nella carta nell'indifferenziato questo e basta così si vabbè quella è una maglia lì intima che stanotte metterò perchè sennò muoio di freddo vabbè non esageriamo però io sono freddolosa che la notte devo avere un po' di calduccio quello è per registrare col vabbè lo sapete tanto per registrare col telefonino vabbè se vedete quello specchio lì è perchè mi serve per registrare con con come dire con non mi non mente si per vedere come registro dalla canon tutto lì se no io non mi vedo scusate la fanno ma sono col fiatone già sono col fiatone non so se ne siete a corte a corte a corti e niente ragazze questo è tutto di la ci sono le mie scarpe e addosso invece non sono scarsa ma il le mie pantofoline già nulla ragazze questo era un vero video intanto l'ho registrato altri e questi tutti li programmo li metto in privato e poi giorno dopo giorno lì pubblico lì pubblico stasera si vedrà ok e nulla io adesso vi saluto ringrazio per avermi visto anche quest'altro video sempre se l'avrete visto e un bacio a presto ciao mettete un bel like commentate iscrivetevi e attivate la campanella sempre se vi va qualora poi volete io ci sono su youtube ciao un bacio ciao 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 ciao